Ciao cari amici, io penso che in nessun periodo storico in Europa occidentale non c'è stato un livello di amministrazione così dannoso per gli europei, così dannoso per gli interessi dei cittadini, degli industriali, dell'economia dell'Europa occidentale come quello che abbiamo in questo periodo storico. Noi stiamo di fronte veramente di atti di sabotaggio contro gli interessi degli occidentali, contro gli interessi dei cittadini, contro gli interessi di coloro che vivono e lavorano in Occidente e ovviamente contro gli interessi di grande industria e di grande economia occidentale. Abbiamo visto tutti come è stata distrutta l'economia tedesca. Noi siamo davanti a una situazione che ormai nessuna propaganda può nascondere. Dopo la distruzione dei gasdotti Nord Stream. Prima cosa che hanno detto molti specialisti, tra l'altro io mi ricordo che ancora negli anni subito dopo il colpo di Stato in Ucraina, quando io e Giulietto Chiesa affrontavamo queste tematiche e apertamente raccontavamo ciò che succederà, stesso Giulietto diverse volte aveva spiegato che prima o poi il Nord Stream sarà distrutto. In effetti all'epoca di lui parlavano male, dicevano che lui sta inventando le cose, oppure che lui è uno che diffonde le informazioni catastrofiche, che non è vero, non sarà mai così. Poi alla fine abbiamo visto che in effetti è stato così. Nord Stream è stato distrutto. E quando è stato distrutto Nord Stream cosa è successo subito dopo? Subito dopo crollata l'industria tedesca. L'industria tedesca è stata, cari amici, rubata, portata via dagli americani. Perché quando noi parliamo del danno più grave che gli Stati Uniti d'America hanno fatto all'Occidente, gli Stati Uniti d'America non hanno semplicemente privato all'Occidente di un gratuito gas russo, non è che la zia Pina ha smesso di cucinare o scaldarsi come faceva prima pagando meno. Qua stiamo parlando del crollo dell'industria e dell'economia. Perché? Perché si sono chiuse le aziende e non si sono chiuse. Se sarebbero semplicemente chiuse, forse sarebbe stato, perdonatemi, forse anche un danno minore, ma sono state acquisite e portate via da americani. E molte, tra l'altro, aziende hanno scelto altri luoghi. Diverse aziende tedesche si sono rivolti non da anglosassoni, ma verso la Cina, verso il mercato russo. Ci sono stati anche aziende che si sono comportate così, ma la gran parte, le aziende più importanti, diciamo la base dell'industria tedesca, sono stati comunque mangiati da americani. E questo era chiaro. Noi sapevamo tutti che i Stati Uniti d'America stavano attraversando una grave crisi. Per risolvere questa crisi, i Stati Uniti d'America hanno solo un metodo. Mangiare qualcuno. Loro prima mangiavano paesi più deboli, paesi medio orientali, paesi che si trovavano in Africa, paesi che potevano essere minacciati, distrutti, invasi, dove si poteva fare genocidio. Tanto nel mondo tutti zitti, tutti guardavano dall'altra parte, perché l'ONU è un'organizzazione, una, diciamo, organizzazione finta, gestita sempre dalle Stati Uniti d'America. E qua invece improvvisamente abbiamo avuto il primo caso in cui i Stati Uniti d'America non hanno potuto più mangiare nessuno. Non possono più mangiare nessuno all'esterno. Per quale motivo? Perché il mondo è cambiato. Loro sono indeboliti. E quindi in questo disperato bisogno di mangiare qualcuno, hanno cominciato a mangiare i loro sudditi. Quindi Europa occidentale è la prima vittima. E noi lo vediamo, è così. E' esploso quindi il gasdotto. Gli americani iniziano a costringere l'Europa di comprare il loro gas. Tra l'altro il gas di scisso, il gas prodotto in modo devastante per la natura, costosissimo, molto complicato nel suo trasporto e trasferimento. L'Europa deve costruire porti speciali. Insomma, c'è stato creato un enorme varco di spesa che ovviamente non corrisponde agli interessi dei cittadini europei perché uno mi ancora deve spiegare per quale motivo io, europeo, devo comprare il gas americano quando sul mio continente eurosiatico ho i russi che me lo vendono a molto meno e riceverlo è molto più facile. Comunque hanno fatto questa storia russofoba tutto quello che arriva dai russi è un male e poi ovviamente sanzioni. Le sanzioni economiche, cari amici, è una vera e propria arma contro l'Occidente. Gli americani hanno fatto tutto per distruggere l'Occidente perché noi abbiamo visto, siamo al 14esimo pacchetto dei sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia e in Russia non hanno smosso neanche un cappello. Non è che i russi adesso si trovano in una situazione brutale in ginocchio, non è che la valuta russa sta precipitando, anzi tra l'altro negli ultimi tre giorni il rubro è cresciuto stranamente. Di questo pochi parlano qua in Occidente perché io quando anche leggo commenti, molti, non lo so, probabilmente perché leggono La Repubblica, Corriere della Serva e altre cartastraccia, poi mi scrivono e dicono Nicolai però i russi sono in difficoltà, ma andate in Russia a vedere in che difficoltà si trovano questi, andate in Russia a vedere come loro vivono. Questi hanno per la prima volta in 30 anni hanno raggiunto un livello veramente bassissimo di disoccupazione. Noi in Europa occidentale sogniamo i livelli di disoccupazione che adesso ci sono in Russia. Russi hanno bisogno di mano d'opera, russi adesso aprono le loro aziende ai stranieri. tantissimi, tra l'altro, specialisti anche occidentali vanno a lavorare lì. Io conosco diversi italiani che sono andati adesso, sono trasferiti in Russia, stanno lì, tra l'altro contentissimi perché gli italiani sono amati dai russi, sono molto accettati nella società, hanno amici, li coinvolgono, interagiscono con loro, quindi italiani lì non sono segregati e soprattutto lavorano e vengono pagati. Ma non solo vengono pagati, vengono pagati più dei russi, perché? Perché sono specialisti stranieri, vengono qualificati meglio addirittura che specialisti in Russia. Questa cosa, tra l'altro, fanno tutti i paesi intelligenti, ad esempio questa cosa fa Arabia Saudita. In Arabia Saudita specialisti locali sono quotati in un modo, specialisti stranieri vengono pagati di più, perché? Perché li devono, come dire, convincere di venire e farli dimostrare che loro gli danno possibilità di creare una loro vita da zero sul loro posto, acquistare la casa, acquistare la macchina, avere qualche possibilità economica in più per svago e così via, per andare in vacanza e così via. Quindi questa è una strategia che non hanno inventato i russi, che è stata già ampiamente utilizzata dagli arabi. Per questo motivo molti stranieri adesso lavorano in Russia. La Russia sta ovviamente attraversando un momento non facile, però assolutamente non è stata scossa da questi famigerati sanzioni. e io lo dicevo all'epoca, io se guardate i miei video del 2000, perdonatemi, del 2020, 2021, io vi dicevo quando hanno iniziato solo a parlare di distacco, ancora prima dell'operazione militare speciale già si parlava della segregazione della Russia, io dicevo fate attenzione perché i russi hanno mercato asiatico, voi non capite il senso della Russia, guardate la mappa, guardate la mappa dove sta l'Europa, che cos'è l'Europa occidentale e che cos'è questa giganteria che si chiama la Russia. Loro hanno sbocchi sulla gran parte del mondo, loro costruiscono le strade, nuovi percorsi commerciali e ovviamente non saranno in difficoltà anche e soprattutto perché loro hanno tutte le risorse disponibili. Comunque, noi vediamo che le sanzioni persistono per quale motivo? Non per danneggiare la Russia, cari amici, non bisogna pensare che le sanzioni sono fatti contro i russi, le sanzioni sono fatti per distruggere e mettere totalmente a K.O., cioè in rovina completamente l'Europa occidentale. L'Europa occidentale va completamente distrutta e mangiata dalle Stati Uniti d'America, dalle Anglo-Sassini. Tra l'altro in questo bisogna dire che adesso c'è una concorrenza tra statunitensi e britannici perché i due aliati in realtà iniziano a mordersi tra di loro perché ovviamente capendo che l'Europa occidentale ormai è crollata perché non c'è un leader forte, non c'è nessuno in Unione Europea, non c'è nessun paese in grado di preservare i propri interessi. Qualcosa cerca di fare Orban, qualcosa fanno Slovacchi, però voi avete visto come Fizzo è finito colpito da un terrorista sicuramente legato alla CIA. Orban è stato minacciato dalla Nato più volte. Quindi noi ci troviamo attualmente in questo periodo in un'Europa occupata da rappresentanti delle Stati Uniti d'America e dei loro interessi e loro porteranno l'Europa al totale collasso, lo stanno portando e adesso americani con britannici stanno diciamo si stanno contestando il ruolo dei futuri gestori di questo continente, questa parte del continente Europa Occidentale. Perché lo fanno? Perché Stati Uniti d'America in difficoltà, i loro progetti non sono andati così bene come loro speravano a livello geopolitico, loro sono riusciti a mangiare l'Europa Occidentale, però l'Europa Occidentale non è un boccone grasso, non li darà così tanto come loro speravano, loro hanno bisogno di più e a livello internazionale loro sono contrastati da un gruppo dei paesi che sono molto più sono diventati molto forti, sono molto più potenti ormai dal punto di vista geopolitico di quella barzelletta che è nostra Europa Occidentale quando io sento Macron che mi parla del fatto che lui manderà 5 aerei Mirage 2000 in Ucraina manderà 20.000 militari poi prima 20 poi sono 5 non si capisce quanto in Ucraina per contro io capisco che questo è un psicopatico da veramente TSO cioè da prendere lì sotto braccio e dire caro andiamo adesso ti portiamo in una stanzetta ti invitiamo davanti alla mappa e tu ogni mattina ti svegli e conquisterai ogni giorno il mondo farai tutte le tue strategie importante che non esce dalla stanza perché questa gente vive ormai totalmente distante dalla realtà oggettiva la realtà oggettiva qual è che ieri ieri la notizia ufficiale data sia dai francesi che dai polacchi ieri dalla Polonia sono partiti i militari polacchi sono circa 20 militari con 20 cani sono partiti per Francia e staranno in Francia per aiutare ai militari e ai polizioti francesi di garantire la sicurezza durante le Olimpiadi questa è la realtà cioè tu brutto scemo vuoi invadere la Russia e poi le tue agenzie raccontano che alle tue forze dell'ordine mancano 20 militari con 20 cani da guardia che le prende dalla Polonia ma tu sei un idiota tu veramente sei da un psicopatico da portare in un ospedale chiudere e buttare via la chiave questa è la realtà dell'Europa occidentale stanno blatterando delle cose stanno parlando di guerra che non saranno in grado di mantenere sicuramente perderanno ma rischiano anche di portare la situazione a livello di apocalisse nucleare perché ricordiamo il problema dei paesi europei è che loro sono stati gonfiati con le armi nucleari statunitensi e se dovesse succedere qualche provocazione e gli americani e gli anglosassoni in questo sono grandi esperti ricordatevi che ad esempio l'Italia sarà prima ad essere bruciata polverizzata e dal punto di vista di utilizzo delle armi nucleari cari amici la Russia oggi è il paese che detiene più armi nucleari di tutti e ha più sistemi aggiornati moderni di portata di queste armi nucleari quindi altro giorno guardate la notizia che hanno dato stessi americani io ho pubblicato sul mio canale privato Telegram lo so che in Italia non si parla di queste cose perché noi abbiamo giornalisti che non sono giornalisti sono delle mignote perdonatemi i giornalisti onesti in Italia veramente sono pochissimi i poverini quando aprono la bocca e cercano di raccontare quello che è una realtà oggettiva vengono subito contrastati da queste mignote comunque la notizia importantissima che da notare e da ricordare è che gli americani hanno perso il sottomarino russo dai loro radar e ci sono ci sono le mappature di voli degli aerei e del funzionamento dei boa di ricerca che hanno messo hanno usato più di mille boa se non sbaglio ma una quantità enorme qualcosa mai visto prima lungo la costa e non sono riusciti a trovare questo sottomarino per quale motivo perché è moderno perché i russi fanno sottomarini creati per non essere trovati dai sistemi statunitensi i statunitensi non sono in grado di rilevare l'avvicinamento di un sottomarino che porta 20 missili nucleari alla loro costa l'hanno perso e i russi secondo me hanno fatto questo giochetto loro sapevano che americani le stanno monitorando e poi improvvisamente sono scomparsi e lì il panico per due ore non riuscivano a trovarli e non le hanno trovati non si sa dove sono andati i russi sono rimasti là se mangiano adesso i brioche sul fondo dell'oceano ridendo come americani li stanno cercando oppure sono già a Severodvinsk nella loro base nucleare non lo so non sa nessuno e questa è la tragedia infatti molti americani molti esperti americani dicono questa è la tragedia perché noi non siamo in grado di rilevare l'avvicinamento di un portamissili nucleari russi questo da un momento all'altro può lanciare missili nucleari dalla costa davanti alla costa statunitense da meno di 100 km dalla costa questo significa tempo di arrivo circa 3 secondi voi sapete cosa significa con missili soprattutto missili ipersonici non riusciranno mai di abbatterli quindi americani sono in difficoltà e ovviamente loro pur di evitare di trascinare se stessi in questa situazione loro piuttosto butteranno contro i russi il più debole che è Europa Occidentale quindi i russi dovranno per forza colpire l'Europa Occidentale questo è il rischio comunque sulla sulle sanzioni una cosa divertente che non so se vi potrà vi farà ridere o piangere dipende dalla situazione io ormai vivo questa situazione come un qualcosa di tragicomico ormai ho smesso preoccupare prima ero molto preoccupato ma ormai sono diventato non lo so un fatalista cinico non riesco a capire più perché leggo queste notizie e non riesco a capire come mai gli altri non si preoccupano e quindi anche io divento un po' così comunque quattordicesimo pacchetto di sanzione europea contro la Russia adesso per la prima volta hanno inserito anche le forniture del gas russo voi sapete che GNL il gas liquido russo continua a essere portato in unione europea tra l'altro i Nord Stream hanno fatto esplodere ma hanno aumentato l'acquisto del GNL russo di 920% cari amici 920% aumentata la vendita di GNL russo ma di quale di quali sanzioni stiamo parlando è veramente l'occidente è un è un pagliaccio è un pagliaccio che contraddisce se stesso ma allora hai fatto le sanzioni al limite non comprare più niente io con Russia non voglio più avere niente che fare non compro niente basta fine niente fanno sanzioni e poi dopo continuano a comprare aumentano l'acquisto del gas liquido comunque adesso sotto la pressione degli americani gli europei hanno detto che loro ovviamente smettono di comprare gas però notizia che vi farà ridere Germania e Ungheria hanno bloccato questo l'accordo sulle sanzioni quindi il quattordicesimo pacchetto di sanzioni dovrebbe partire ma non può partire perché tedeschi e ungheresi lo bloccano perché loro vogliono continuare a comprare il gas russo capite in che situazione noi ci troviamo e poi c'è qualcuno che anche ha coraggio di dire che Europa Unione Europea siamo tutti insieme noi qua facciamo noi perché insomma siamo contro i russi unica situazione Stoltenberg ogni tanto spara qualche cavolata ovviamente avvicinando sempre di un passo l'apocalisse nucleare senza anche comprendere che cosa stesse facendo questo qua secondo me è proprio il livello di imbicillità è tra Macron e Zelensky proprio e alla fine cari amici abbiamo rappresentanti che ci fanno del male questa è la realtà questo è ciò che fa parte della nostra vita ovviamente molto triste che comunque i cittadini europei continuano a scegliere questi rappresentanti quanto pare la gran parte dei cittadini europei non ha una memoria storica non ha una memoria in generale ragiona probabilmente non con la testa ma con altre parti del corpo e utilizza secondo me più che ragionamenti utilizza emozioni questa è la cosa più più brutta perché come sapete quando entra in gioco l'emotività tutto il resto scompare amici vi ringrazio per la vostra attenzione io come sempre vi invito di approfondire le notizie sul mio canale privato Telegram il link per abbonamento al mio canale troverete nella descrizione a questo video ogni giorno io pubblico circa 100 aggiornamenti tra materiali video foto reportage della prima linea delle retrovie di guerra in Ucraina tantissime interviste tantissime opinioni analisi di vari esperti provenienti da tutto il mondo tutto questo che serve ai miei abbonati di creare una loro visione obiettiva su ciò che succede nel mondo per non essere sotto il dominio della propaganda filoatlantista quindi vi unito vi invito anche a voi di unirvi al mio canale se volete sostenermi qua su YouTube e come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale di commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione vi ringrazio per le vostre donazioni per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti tutto questo è molto importante per me e per il mio lavoro qua su YouTube vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene